Signori e signori, oramai abbiamo anche terminato quello con il podio al femminile, le prime tre donne assolute. Signori e signori, andiamo a sentire il parere. Lei, la terza classificata per il team Zero Test, Emily Bottini. Allora, ho detto prima nel cerimoniale, siamo abituati a vederti tutte le domeniche, a lottartela, però è bello vederti anche quando non si vince col sorriso. Io credo che sia una grande vittoria. Sì, infatti, è la quarta gara di fila, sono felicissima di essere qua. Alla fine esitavamo se venire o no e sono contenta che siamo venuti comunque. È stata una gara bellissima, su strade sconosciute e abbiamo scoperto anche tutto un territorio. E questo è bello, andrò subito a rappresentarvi un'altra maglia importante, vedo, perché lei rappresenta la S di Buario. Il suo nome è Luisa, cognome Isonni, una seconda posizione, guarda pure la telecamera, non guardare me, anche se sarei grato che tu mi guardassi. Dimmi la cosa, chi si dedica a questa seconda posizione perché è una corsa tirata tutta ad un fiato e cosa si è provato? La dedico a me stessa perché, va bene, no, grazie a tutti quelli che mi danno sempre una mano mi sostengono, però poi la fatica grossa la faccio io, quindi alla fine me la dedico a me stessa. Quando si dice che il ciclismo toglie la femminilità io ho detto guardate questo quadro qua, grazie a queste immagini si può vedere, ma dove? Si vede la fatica nella donna ma la femminilità rimane come? Sì, tantissimo, soprattutto femminilità rimane nelle gare, è bellissimo. Alessia Bortoli, lei rappresenta la Capitani Minutili Metalliche, la prima posizione, un periodo di forma. Alessia, prossimi impegni e questo percorso, giocavi in casa, conoscevi bene il percorso e cosa ti sembra? Il percorso è ottimo, me lo ricordavo un po' dall'anno scorso, non totalmente perché delle salite sono cambiate, purtroppo non sono zone che frequentino allenamento perché di solito sto nella parte verso Marostica e Bassano, però sono sempre zone belle in cui pedalare.